Ciao ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video oggi andremo a spacchettare il pacchetto di brochet insieme faremo che noi tireremo fuori gli oggetti e poi vi proveremo a vedere gli oggetti fuori ragazzi eccoci abbiamo tolto il coperchio ora vi faremo vedere gli oggetti ma ha perso scusatemi teniamo i dritti allora noi cerchiamo di capire qual è quello che ha perso allora praticamente adesso tiriamo fuori tutto e poi ve li facciamo vedere bene così almeno facciamo più velocemente eccoci allora cominciamo dalla casettina purtroppo c'era un prodotto rotto e quindi anche il tavolo si è un po' sfruttato la casettina molto bella questa qui è quella alle mele d'inverno che ha il bagno doccia, la crema a mani e questo qui è il gommage corpo e poi qui c'è il... come si chiama? si purtroppo come vedete strappata io adesso proverò poi magari con lo scotch a sistemarla purtroppo è arrivata così tutta un po' massacrata perché lo stai facendo? e niente comunque è molto bella questa qui me l'ha ordinata la mia vicina poi invece una mamma di un'ex compagna di Manuel che comunque è anche un'amica mi ha ordinato tre di queste creme così che erano in offerta a 9 euro e 95 come anche la casetta poi e anche questi... c'era il set da 5 bagno schiuma e praticamente c'erano in due... diciamo fragranze ce n'era orientale e relax orientale aveva mango e coriandolo noce di cocco e fiori di cotone e mimosa da 200 ml e poi vaniglia, barbon e argan e rosa da 400 ml purtroppo questo qui alla vaniglia era arrivato con il tappo rotto e niente io per fortuna ne avevo uno mio e quindi ho cambiato il tappo e ho messo quello sano per la cliente e il tappo rotto che in pratica manca questo pezzo me lo sono tenuta io e poi invece l'altra... quello relax è oliva e petite grain da 200 ml e poi questo qui mandorla e fiori d'arancio magnoglia e tè bianco fiori di loto e lavanda e mora da 400 ml poi invece un'altra cliente ancora adesso metto a posto un attimo questi ha ordinato il set zainetto che comprende questo zainettino qui di stoffa molto molto carino con... che vi ho già fatto vedere anche in un altro video con il bagno doccia bagno schiuma questo qui è da 400 ml poi l'acqua profumata al cocco il latte per il corpo sempre al cocco la crema a mani e il burro cacao vi assicuro perché quello che avevo mio è al cocco e quindi l'hanno usato ha un profumo di cocco che ti viene voglia di mangiare cioè proprio di morderci dentro e poi questi due aceti per i capelli uno purezza e un altro questo qui brillantezza lo ha già fatti vedere è che sono uguali quelli ragazzi un'altra ha fatto lo stesso ordine l'ho già detto poi un'altra cliente adesso metto un attimo a posto questi e poi andiamo avanti poi una cliente ma più che altro un'amica ha preso questo come si chiama? fondo tinta questo qui zero difetti beige 200 volevo solamente vedere come era fatta la confezione ecco sono riuscita ad aprirlo senza fare danni e la confezione è così con qui lo spray molto molto carino poi invece sempre una cliente ma più che altro la mia verduriera di fiducia perché è Olimpia che mi porta la verdura fino a casa ha preso questo rossetto qui Gran Rouge 110 e poi che è un però non è proprio un rossetto è più un lip gloss ecco che era in offerta la matita nera questa qui sempre la solita stilo Regarde Waterproof poi invece per me e Giorgia allora questo qui è un regalo mettiamolo da parte ho preso appunto perché erano in offerta due matite Giorgia l'ha presa grigia io invece l'ho presa l'ho presa appunto turchese non so mi ispirava mi ispirava e ci sono tanti altri colori che vorrei prendere a parte il grigio in realtà e poi ho preso questo set di lucida labbra burro cacao al karité al cocco la vaniglia poi questi qua invece sono un po' più scriventi e sono mango lampone e mora e poi come regalo per me c'era questo qui queste due cose qui uno è uno shampoo anti inquinamento e l'altra invece è no e questo qui invece è un latte nutriente per il corpo questa qui è stata tutta l'aroma che c'era in questo ordine io spero che mi sia piaciuto questo video che vi siano piaciuti questi prodottini vi assicuro che le fragranze si sentono veramente molto sono molto buone a me ha colpito tanto il cocco perché sembra proprio cioè ci viene quasi la voglia di morderci dentro no di di assaggiarlo poi c'è anche questa pochette qui con il marchio di brochet ho preso poi la guida viso per conoscere meglio le creme comunque che sono ci sono sopra i cataloghi e anche per imparare bene i passaggi perché comunque finora non è che mi sono mai presa molto cura della mia pelle poi un altro album my magic christmas che è valido fino al 27 di dicembre una borsina e il catalogo 16 che inizierà tra poco perché il 4 di dicembre questo qui è tutto io spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video ciao ciao